Dovamo insieme a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Eravamo già stati qui, ricordi quella sera, a buio totale per sottoporne la desolazione della struttura Agnotin Chimera prima che ci fosse l'idea del Comune di Arezzo e anche la strada per il Comune di Arezzo di trovare il modo di dare questa struttura che probabilmente nella sua maggiore funzionalità è la migliore che c'è ad Arezzo, di annetterla alla concessione dello stadio e quindi di assegnarla all'Unione Sportiva Arezzo. E avevamo visto con quel buio che era una desolazione, tutto buio, anche soggetto se vogliamo a qualche malintenzionato e sapete che in questi giorni si è scoperto che qualcuno è entrato. e ha messo veramente a ferro e fuoco quasi sul quadro tutto, è stato danneggiato tutto quello che si poteva trovare, ma per quanto pare non ci sono stati furti particolari quanto proprio una volontà distruttiva di proprio rovinare, sfasciare tutto. Pare che c'erano già state quattro denunce in precedenza di altri tentativi o di effrazioni vere e proprie e quindi l'idea, anche guardando queste immagini che vi stiamo mostrando, è che la fidelità non sia quella di rubare, ma proprio quella di danneggiare. Quindi un vandalismo che forse va ricercato del suo movente, non lo so per che cosa, però non sembrano dei ladri. Generalmente questo viene quando intervengono fattori particolari come in questo caso del fallimento e soprattutto anche quando c'è l'abbandono completo di tutte queste strutture. Come hai visto, malintenzionati entrano un po' dappertutto e spaccano tutto. Questo qui sembrerebbe una vendetta a questo punto qui, personale di qualcuno o nei confronti dell'Utichimera o nei confronti dell'amministrazione comunale che voglia fare questo passaggio all'Arezzo. Non lo so, sinceramente dispiace che una struttura così bella sia stata così devastata da vandali in modo veramente ignobile. Che ti devo dire? Qualche problematica c'è stata. Adesso questo va all'Arezzo, esclusivamente all'Arezzo. Quindi ci giocheranno solo squadre dell'Arezzo. Perché una volta qui era utilizzato un po' da tutto. Anche dagli amatori. Non so se l'amministrazione penserà anche a questo. Forse sarebbe anche il caso che ci pensasse, visto che comunque sia le squadre minori, i WISP, non hanno disponibilità di campi e quindi qui utilizzavano un campo anche per i loro tornei. Non lo so, adesso magari l'amministrazione comunale sicuramente si salvaguarderà nella convenzione che farà in modo tale che comunque siano salvaguardati un po' i diritti di tutti. E magari poi l'Arezzo lo possa usare come meglio vuole. Allora sentiamo nell'intervista che ha fatto la nostra Chiara Sadotti l'assessore dell'assessore allo sport Lucia Tanti che dice se è un atto vandalico per non farci fare quello che stiamo facendo dice hanno sbagliato assessore. E poi sentiamo anche l'ufficio sport che descrive veramente con desolazione tutto quello che è successo. Se è un atto generico rientra nella categoria degli atti vandalici che tra l'altro il contesto ancora lo permette perché essendo al momento non in gestione è ovvio che non essendo neanche centrale rispetto alla città i vandali sostanzialmente si orientano più in queste realtà. Se fosse un atto specifico, cioè un segnale di non gradimento potrebbe anche starci, io non lo so, rispetto alle scelte che stiamo facendo che in parte abbiamo già fatto circa la volontà di far sì che quell'impianto diventi un appendice dello stadio dedicato in primis agli allenamenti della prima squadra ma anche alla riapertura dell'impianto per altre realtà sportive mi dispiace ma hanno sbagliato assessore, noi andiamo avanti. Purtroppo non è la prima, si sono succeduti nel corso dei mesi diversi furti e diversi atti vandalici non per ultimo questo fine settimana abbiamo potuto constatare che hanno devastato ulteriormente altri manufatti hanno portato via materiale informatico, hanno portato via anche arredi e l'ultima devastazione, lo possiamo vedere qui intorno, hanno addirittura devastato immobili che erano parte del fallimento. Vediamo un attimino adesso come procedere la quinta denuncia per forti perdonaggiamenti che facciamo abbiamo gesto l'intervento dei carabinieri, della municipale, hanno fatto sopralluoghi e purtroppo però non è mai stato trovato per il momento nessun colpevole. Quindi c'è un problema di vigilanza anche adesso comunque certo hanno sfasciato tutto più di così è difficile però ovviamente credo che adesso la zona sarà attenzionata maggiormente dopo quello che è successo però insomma anche l'assessore allo sport ipotizza che possa essere una mossa contro la scelta del comune di darlo alla Riez oppure chissà c'è qualcosa, qualcuno del passato che appunto si vuole a qualche accredine si è voluto vendicare, non lo so, oppure è una ragazzata tutti i falsolettini per terra all'interno, buttati per terra potrebbero anche indicare una ragazzata oppure sono stati più raid e non uno solo. Ma che ti dire, io distruggere così la cosa pubblica lo giocamento non fa piacere comunque chi sono stati sono veramente defessi perché non si fanno poi anche se si volesse vendicare non ci si vendita in questo modo perché bene o male poi si spendono soldi pubblici, soldi di tutti erano bene nel fallimento? erano bene nel fallimento sicuramente sì e quindi però mi domando il curatore fallimentare fino ad oggi che non è venuto l'amministrazione comunale che l'ha ripreso un carico e lo dà in assegnazione a Rezzo fino ad ora dov'era? cosa guardava? perché non ha sorvegliato, non è venuto, non ha controllato qualcosa? perché bene o male le chiavi ce le aveva lui quindi non potevano entrare se non facendo effrazioni come penso abbiano fatto però un minimo controllo doveva essere fatto questo dobbiamo domandare al curatore fallimentare perché non l'ha fatto anche se le chiavi forse sono tornate al comune adesso sì, adesso sì, non so da quanto sono tornate al comune e questo quando è successo comunque pare che fino a giovedì scorso non è successo adesso in questi giorni quindi è proprio stata fatta la vendetta a questo punto quindi con l'amministrazione comunale che dà questo impianto all'Arezzo ma cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale se non darlo alla principale squadra della città? se no come dicevamo nell'altro SOS chissà per quanto tempo rimaneva così eh sicuramente sì evidentemente c'è qualcuno che sperava che rimanesse così piuttosto che dare un'altra vita a questa struttura bah, non so che dirti, non so veramente che dirti sicuramente chissà poi se chi abita qui perché devono aver fatto un gran rumore se non abbiano sentito qualcosa magari le persone che abitano qui va a dirlo e va a domandarlo io penso che nessuno ha visto niente bene ci vediamo domani grazie grazie